Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra video carriera con il Palermo Ce l'avevamo lasciati con tre partite a mio parere buone, anche a vostro parere come avevo letto nei commenti Con il pareggio con la Juve, la vittoria poi con il Chievo e la sconfitta 3-2 con il Milan Sconfitta per me e anche per voi, immeritata Comunque adesso siamo in Coppa Italia, giochiamo contro il Cagliari, siamo in trasferta Quindi dovremmo sistemare bene la squadra qua Sostituisci senza... solo per questa partita, ok? Adesso la sistemeremo noi naturalmente Allora Maglie voglio usare la grigia, mi piace veramente tanto, contro la bianca va bene Nuvoloso, gestione squadra Allora, io direi che dopo avremo delle partite, secondo me, a Coppa Italia voglio far giocare tutti Lo dico Quindi magari fate giocare già le Zerini che non ha ancora toccato campo quest'anno Se lo troviamo Le Zerini, eccolo qua Poi fate giocare Maresca che non ha ancora giocato al posto di Barreto No, io farei giocare Quaison e Kozev Che sono tutte e tre giovani Baselio non lo porta neanche in panchina Lazaro non ha ancora toccato campo, qualcuno si è lamentato di ciò Munoz non gioca, giocano... Castelletto è... Lo so che... no, facciamo Castelletto è... Bamba Ok, un attimo Eccoci qua Poi al minuto, titolare va bene Bernardeschi di Bala, non farei giocare di Bala Ma... Machinoc prima punta Al posto di Belotti Bernardeschi anche con Politano Bernardeschi è uno dei pochi che tengo per adesso titolari Poi... Vediamo di portarci un Cdc Portiamo Goi al posto di Emerson Per il resto direi di cominciare C'è anche i Fulignati che non ho mai giocato Però preferisco tenerlo in tribuna per questa partita Ok, questa qua è la formazione titolare Secondo me è ottima Anche se sono tutte riserve Però potremo far bene E soprattutto l'importante è passare il turno contro il Cagliaric Dopo la partita di Coppa Italia col Cagliaric vinte per 2-1 Andiamo a sfilare il Genoa In trasferta ancora Mi manca Renzo Bardella davvero Comunque giuchiamo con la maglia bianca contro la... Vediamo se ho sbagliato Ah no, ok No No, giochiamo con questa Piove Formazione quasi tutta titolare Non capisco perché Baselli è giù fisicamente Moralmente Cioè moralmente Dentro da Costa Ottimo terzino Poi Gonzales Bamba Gonzales Munoz Al posto di Scuffette Sorrentino titolare Quaisson lo parterei in panchina Al posto di Emerson E... Politano No No, lasciamolo così Titolare Belotti E... Giochiamo così, va bene Allora Genoa Palermo Alla Luigi Ferraris Speriamo di vincere Possiamo cominciare questa sfida Manca pochissimo davvero Alla... Siamo a Genova Per questa sfida Sotto la pioggia E... Inquadrata qua Entrambe le squadre E... Per Inna Importa naturalmente Per il Genova Inquadrato Maurizio Piniglia Ex della gara Ex del Palermo Possiamo cominciare Quindi Speriamo Che sia Una grandissima partita Belotti Bravissimo Palla di Bernadeschi per Di Bala Di Bala se ne va Con un numero Di Bala Vede Belotti Palla lunga Non ci posso credere Di Bala Di Bala Buco Palla per Bernardeschi Che ci prova col destro Palla che esce di pochissimo Calcio di Angolo C'è stata anche di viazione Angolo di Di Bala Palla e mezzo Munoz Miracolo di Perin Mamma mia Che pallata di Perin Ancora Di Bala Palla ancora Nello stesso punto di prima Di testa Ancora la pallata di Perin Qua la palla per Paolino Di Bala Di Bala Prova a inventare Per Belotti Che la mette giù Belotti Ci prova al volo Madonna Che conclusione di Belotti Rivediamola Al volo La mette Di pochissimo fuori Belotti Per Rigoni Rigoni Per Bernardeschi Che può andare Bernardeschi Più veloce degli altri Bernardeschi Federico Bernardeschi Dittisce il pubblico di casa 1-0 Palermo Conclusione ravvicinata Di Bernardeschi Dopo Dopo Una grandissima corsa Col sinistro Batte Perin Quarto centro stagionale Per lui Gonzales Prova ad andare in marcatura Palla dentro Munoz Rischia Matri Cioè Matri Stava per segno del pareggio Meno male È fortuna per noi Che non ha inquadrato bene la porta Poggia Di Bala Di Bala fermato Mentre stava proprio per lanzare Palla dentro Palla dentro Per Eddi Ma che intervento L'ha fatto Se non sbaglio D'apre la Madonna Salvataggio Poi qua Può ripartire il Palermo Rigoni Palla per Di Bala Di Bala Ancora lui Palla per Bernardeschi Finisce qua il primo tempo 1-0 Palermo Grazie a rete di Federico Bernardeschi Palla per Belotti Uno contro uno Con De Maio Belotti può andare Belotti rientra Belotti Il Gallo Non riesce a segnare Belotti Peccato anche qui Di poco Di pochissimo Bernardeschi lanza Belotti Il Gallo defilato Contro De Maio Belotti Uno contro uno Belotti Belotti Il Gallo Belotti Finalmente Finalmente Belotti Alza la cresta Il Gallo Di fisico Su De Maio E poi col Mancino Non perdora 2-0 Palermo Segna il primo gol In Serie A Il Gallo Belotti Finalmente Bravissimo Di Bala Lancio lungo Per Belotti La mette giù di tacco Belotti 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 Doppietta per il Gallo Finalmente il Gallo A segno Per ben due volte Non ci credo 3-0 In trasferta Che partita Amici E che gran gol E che gran gol di Belotti Dovete vedere Il primo stop Quello col tacco Con l'esterno Del tacco E poi davanti a Perin Non sbaglia Questa volta Doppietta per il Gallo Che si merita Il premio di migliore In campo Quest'oggi 3 punti in cassaforte Con 3 gol Il 3 È il numero perfetto E si vola Si vola ragazzi Grazie Alla doppietta Del Gallo Belotti E al primo gol Di Federico Bernardeschi Che ha aperto Il match Torniamo a Palermo Da Genova Con 3 punte Con tanta Consapevolezza Delle nostre forze Allora Dopo Le due partite Con Il Cagliari E il Genoa Adesso andremo a affrontare L'Udinese In casa Finalmente A Renzo Barbera Dopo tantissimo tempo E Sistema un po' la formazione Comunque Nel tempo volevo parlarvi Mi vedete Con la luce E senza il cappellino Con i capelli fatti Perché Ho registrato In due giorni Cos'quale il secondo giorno Naturalmente Allora In porta Sorrentino Non in difesa Naturalmente In difesa metterei Bamba E Muno Se lascerei loro due Poi Ingoì Al centro campo Il posto di Barretto Rigoni fuori Dentro Della Rocca Proviamolo Concert Me lo porta in panchina Perché Potrebbe servirmi Diciamo così Poi Politano Titolarissimo Al posto di Bernardeschi Dentro di Bala Per il resto Cominciamo Cominciamo Sorrentino Capitano Palermo Udinese Speriamo Di portarsi a casa Tre punti Renzo Barbera Di Palermo Per questa partita Di campionato Palermo Udinese Mister Kundispa Versus Mister Stramaccioni Piove a Palermo Stranamente Tornata piovosa Inquadrate entrambe Le squadre Che stanno Stringendo la mano Oggi A causa Della mancanza Di Barretto Il capitano Per il Palermo È Stefano Sorrentino È tutto pronto E possiamo Cominciare Questa sfida Palla per Almici Lancio per Politano Politano può andare Politano 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 Col destro Il palo Di Politano Politano Prova a lanciare Macchino Che la mette giù Di fisico Poi la palla Poi la palla Arriva Angoi Angoi Grandin Goi Sotto L'incrocio Che gol Ha fatto Angoi Primo centro Stagionale Per lui Forse anche La prima partita Che gioca Guardate La finta Di corpo Poi anche Fortunato La mette Sotto L'incrocio Angoi Grandin Goi Al ventitresimo Fa valere La sua potenza Fisica Hai Infortunio Allora è serio Per Per Di Bala Che è costretto L'uscire Entra Vázquez Al suo posto Speriamo Davvero Nulla Nulla Di grave Però È costretto L'uscire Di Bala Quindi magari Spero Uno stop Di poche settimane Al massimo Finisce qua Il primo tempo 1-0 Grazie a rete Di Ngui Che Fa valere Davvero La sua potenza Fisica In campo Perché sta giocando Davvero Un'ottima partita Poi A parte il gol Sta giocando Sta facendo Davvero Tanta Sta mettendo Tanta sostanza In mezzo Al campo Quindi andiamo Alla ripresa Sperando di Continuare così Davvero Scucchiaia Per Politano Di testa Per McKinnock McKinnock Cosa ha fatto McKinnock Cosa ha fatto Anche col piede Anche col piede È forte McKinnock Madonna Stop al volo Devo rivederlo immediatamente Allora Lancio di Daprelà Politano di testa L'aggancio di tacco Di McKinnock Che magia Il primo tiro Verso la porta Di McKinnock Col piede Da quando usiamo McKinnock Che ha sempre Tirato di testa E fa valere Un gola Un gesto tecnico Pazzesco Quinto centro Sagerare per McKinnock 2-0 Palermo Cassano Cassano Sorrentino Non riesce a fermarlo Dovebbe essere proprio Cassano Oh no Forse con E No è Faraoni Scusate Faraoni A corso di distanze Dopo l'assist Di Tacco Di Muriel Il tiro di Faraoni Ancora lui Non ci credo Dovebbe essere ancora lui Doppietta di Faraoni Come fare due gol Faraoni Catroia Ah il Conè Almeno Perché Faraone Il 32 Ho letto 32 Invece il 33 Conè Comunque Si va sul 2-2 Palermo Irriconoscibile Rispetto alla prima frazione di gioco Aspetta Arrivo di Daprela Lo serve Daprela può andare Daprela fine in fondo La tiene Poi la mette dentro Per McKinnock Il danese Sempre lui Siamo sul 3-2 Il Palermo Non molla mai Rivediamo Il colpo di testa di Machino Entra di Natale Per Faraoni Quindi Stramaccioni Dai Vuole dare il tutto per tutto In questo Finale di partita Che qui lancio lungo Munoz Sbaglia completamente Cassano Bamba Che intervento Poi fortunato L'Udinese Con Muriel Lancio per Muriel Cassano Muriel E dai Che gol han fatto Applauso Degli 1-2 Inravvicinati Guardate Proprio Fantastico il gol di Cassano L'azione soprattutto Un punto e basta Contro l'Udinese Comunque una gara Davvero bella Purtroppo aver perso due punti così Ma sono sicuro che ci rifaremo Magari quando avremo un po' di Più benzina nelle gambe Grazie alla doppietta di Machino Che la rete di Ingoi Parezzano Perra L'Udinese Cassano Con E Faraoni Dopo il pareggio con l'Udinese Giochiamo in casa col Parma Per questa quarta e ultima partita di questo episodio Siamo in casa Contro il Parma Già ripetuto Sistemo la formazione Poi ci vediamo Tra pochissimo Per l'inizio della partita Tutto pronto per Palermo-Parma Di campionato Speriamo di fare un'ottima gara E portarci a casa 3 punti Il Parma È nono A 16 punti Noi siamo Quinti a 20 punti Sarà un'ottima sfida E speriamo che sia una bellissima partita Finisce quel primo tempo 0-0 Poco occasione di gol da entrambe le parti Dovremmo fare molto meglio nella ripresa Per sperare di portarci a casa Davvero Questi tre punti fondamentali Uh Qua Belotti Il Gallo Di fisico Se ne va Belotti 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 Barreto Il Gallo Belotti In aria Belotti rientra Il Gallo Pala sul destro La parata Joe Silva Forse è proprio lui Joe Silva 55esimo Joe Silva Porta in vantaggio del Palermo Quanta sofferenza per questo gol Lo aspettavamo da tantissimo Adesso dobbiamo Non sbagliare nulla Che testata di Joe Silva Primo centro con la maglia Rosa nero per lui Il Gallo la tiene E poi serve con una palla magica Barreto Il capitano Rigore Che palla di Belotti Io voglio la rete di Belotti adesso Si merita Per l'assist Ammonito Cassani Anche se secondo me Poteva starci benissimo il rosso Si stava presentando Al dischetto Joe Silva Che ha già segnato Il gol del vantaggio Vediamo se la chiude Il Gallo Belotti invece E' proprio il suo turno Andrea Belotti Attaccante Under 21 italiana Si presenta 1 contro 1 con Mirante Belotti col destro La parata Un ci credo Peccato Barreto dalla bandierina La mette dentro Bamba Ancora calcio d'angolo Dobbiamo chiudere adesso questa partita Proviamo lo schema Disturbo del portiere La palla è dentro Niente da fare Palla lunga per Pisano Pisano può correre E' stanco Però Pisano va Va contro paletta Pisano La mette dentro Belotti Joe Silva Ancora lui Pisano lungo per Joe Silva Joe Silva La mette dentro per Belotti Ancora un'altra parata Che si spengono qua per le speranze del Parma O quasi C'è cazzo Tre punti Meno male Una partita sofferta Forse sono queste le partite che ti fanno capire la tua forza La forza della squadra Si vuole a 23 punti Sempre più su questo palermo Finisce qua la partita Finisce qui anche questo episodio Andiamo a leggerle qua Oltre mele poi la formazione Ha arrivato un'offerta dalla Fiorentina Non accetterò di cerci Sapete come la penso Deluso perché Polità non l'ha giocato Ma era davvero stanco Emerson si lamenta per il poco impiego Comunque ne parleremo nel prossimo episodio Guardiamo la classifica Siamo in piena zona Europa Proprio siamo sull'ultimo gradino della zona Europa Europa League naturalmente Primo Napoli Juve Lazio Inter Palermo Poi c'è la Fiorentina Genova Roma Empoli Milan E così via Le ultime in classifica sono Cagliari Torino E il Cesena Allora ragazzi Il video per me è finito Spero che le quattro partite vi siano piaciute Che i risultati siano ottimi Lo so Cioè lo so Sono quasi tutte vittorie Quindi non possiamo non lamentarci La posizione in classifica è perfetta Secondo me per quello che A cui vogliamo ambire noi Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E un commento Iscrivetevi al canale Condividete il video Aggiungente i preferiti E noi ci vediamo domani Con il prossimo episodio Sempre della videocarriera Quindi Magari se arriviamo ad 800 like Sarò davvero felice Al prossimo video Bella This is the story Grazie a tutti